Nel periodo che va dal 1991 al 30 settembre 2023 sono stati decretati 383 scioglimenti di comuni a causa delle infiltrazioni mafiosi in Italia. La Calabria registra il record negativo con 133 comuni sciolti, seguita dalla Campania con 117. Sono questi alcuni dei dati rilevanti presenti nel dossier La Linea della Palma di avviso pubblico che analizza i comuni sciolti per mafia in Italia dal 2022-2023. Sono questi alcuni dei dati rilevanti presenti nel dossier La Linea della Palma di avviso pubblico che analizza i comuni sciolti per mafia in Italia nel 2022-2023. Nell'arco di questo periodo in Calabria sono stati sciolti 18 enti locali a causa di infiltrazioni e condizionamenti mafiosi. Tra il gennaio del 2022 e il 30 settembre del 2023 sono stati sciolti 18 enti locali a causa di infiltrazioni e condizionamenti mafiosi. E anche in questo caso la Calabria detiene il record negativo con sei comuni sciolti, Cosoleto, Portigliole e Scilla in provincia di Reggio Calabria, Aquare e Soriano Calabro, Viva o Valencia e Rende a Cosenza. Un rapporto che analizza anche le dinamiche evidenziando il coinvolgimento dei clan mafiosi soprattutto nelle campagne elettorali. Liste sottoscritte anche da soggetti contigui alle organizzazioni mafiose, situazioni in cui la richiesta di sostegno ai membri del clan proviene direttamente da alcuni candidati o in cui la moneta di scambio si concretizza soprattutto in assunzioni e occasioni di lavoro come nel caso del comune di Rende o il comune di Scilla. Il cuore dell'interesse dei clan, dice ancora avviso pubblico, è costituito dalle manovre occulte in materia di affidamenti d'appalti. Non mancano infatti i casi in cui il sindaco stesso assurge al ruolo di vero e proprio dominus della politica locale, assommando a sé la quasi totalità delle funzioni. Emerge infatti una carenza sul piano dei controlli e delle verifiche antimafia a cui ogni amministrazione è tenuta. Tra i casi più emblematici quelli del comune di Portigliola, dove la subordinazione dell'interesse pubblico agli interessi delle cosche nel settore degli appalti si realizza con molteplici attività, tra cui la violazione del principio di rotazione tra aziende.